La passione per la casa con tutti gli oggetti che indipendentemente dalle disponibilità la rendono accogliente. Andiamo allora a vedere a Milano. Una casa sempre più a somiglianza di chi la abita. Basta arredamenti anonimi o ambienti asettici, oggi è il colore a fare tendenza. Dalla cucina alla sala, dagli interni ai complementi per l'esterno, le parole d'ordine sono personalità e carattere. Ogni singolo pezzo vive una vita propria, due tazze da caffè sono carine, hanno il piatto fiore, hanno la tazza righe, sono un bellissimo oggetto da regalo. La novità è che abbiamo voluto rivestire con questi materiali pregiati, quindi la pelle lavabile, i nostri tostopane, il nostro bollitore, il cesto porta frutta, la bilancia, la macchina di caffè. Oltre 2.000 dispositori provenienti da tutto il mondo per questa 86esima edizione del Macef, il Salone e della Casa, presentate oggi qui a Milano tutte le ultime novità. La posata antiaderente, che è una posata con una linea molto di design e con questo trattamento su tutta la superficie che dà l'effetto nero e in più anche la valenza antiaderente. Davvero tante le novità, dalla feluca, un coprilampadina in materiale ignifugo utilizzato anche dai pompieri e che può reggere temperature di oltre 200 gradi, al ferma libero che diventa ferma porta. E poi ovviamente non poteva mancare questo piatto fatto a mano a prova di affamato. Una grande mostra da fare il Macef in cui il vero protagonista ancora una volta è il Made in Italy.